Grazie Lorenzo per il tuo lavoro e queste nuove che stasera ti abbiamo fatto fare, grazie della tua collaborazione. Perché questa squadra? Questa squadra, caro sindaco Antonetti, è il meglio che Fratelli d'Italia poteva esprimere. Le sono un po' di grazie perché loro rappresentano il rinnovamento, i giovani, la capabilità delle donne, la precisione delle donne, la fermezza, l'antico che non sguasta mai. E soprattutto la freschezza di un pensiero. Vi ringrazio di esservi candidati, vi ringrazio di affiancarci in questa bella sfida. A voi do il più grande in bocca al lupo e una grande immensa carriera politica. Perché comunque andrà Fratelli d'Italia a 32 nuove competenze in provincia di Teramo e nel comune di Teramo. Grazie. Grazie al generale di sabato, grazie a Guido Lips, grazie all'onorevole Donzelli, nonchè organizzatore, capo del partito e stasera che è sabato insieme alla sua signora che ringrazio sono venuti a Teramo in quest'ora un po' non tanto simpatica. Grazie al senatore, nonchè coordinatore, Eter Sigismondi, grazie. Grazie a tutti i segretari di Uniettoria Munti per il suo lavoro estremuante che lo porta ovunque e lo stiamo vedendo in questi giorni che i fatti gli fa le parole e le lascia agli altri. Grazie al consigliere Cipolletti, grazie di essere arrivato in Fratelli d'Italia, grazie a Leonardo che è mia reintroduzione perché è venuto qui da Pescara, le ringrazio. Le ringrazio anche di Pasqua da Pescara, i sindaci, grazie signor Agostinelli, grazie Rosanna, siete stati gentilissimi. Vedo tra la folla l'onorevole Carla Castellani. Grazie a tutti i segretari di Uniettoria Munti. Grazie a tutti i segretari di Uniettoria Munti. Sono con voi e lo sarò sempre. Ci sono per qualsiasi cosa. Fratelli d'Italia c'era dieci anni fa il 2%, c'è adesso che a terra mi ha fatto registrare il 27 e l'8% e ci saremo sempre perché noi abbiamo solo un modo di parlare. E se oggi la nostra leader, Giorgia Meloni e al governo con la sua bellissima squadra, Marco Marsiglia al comando della regione Abruzzo, c'è un suo perché ed è inutile che ve lo continui a dire io. Grazie signori, vi do la parola perché è necessario che sentiamo i nostri parlamentari onorevoli di quello che stanno facendo e quello che vogliono fare per l'Abruzzo e per terra. Buongiorno a tutti!